Un'edizione direi stratosferica per la presenza dei visitatori. Ecco una perfetta sintesi della Fiera del Socco 2022, una rinascita che ha funzionato. Dopo due anni di pandemia Grisignano ha riacceso le luci, la più grande e antica Fiera del Veneto. Certo abbiamo avuto veramente molti grattacappi, nel senso che voglio dire partire con una società che in qualche modo abbiamo rimesso in piedi da metà maggio e organizzare una manifestazione di questo tipo in pochissimi mesi è stata un'impresa davvero ardua. Teniamo presente che scontiamo e abbiamo scontato in maniera importante un tema legato all'incognita della pandemia. Molti operatori ovviamente chiedevano nel momento in cui davano l'adesione e versavano le prime caparre se potevamo garantire un eventuale ritorno nel caso ci fosse stato un blocco dell'ultimo minuto perché non dimentichiamo che abbiamo vissuto un'estate con il virus in crescita e quindi le preoccupazioni c'erano. Le incognite c'erano ma alla fine la fiera ha fatto i numeri, 10 chilometri lineari di bancarelle con 800 mila visitatori in sette giorni. Le bancarelle abbiamo avuto un 10-15% in meno rispetto all'edizione 2019 però di converso abbiamo saputo riorganizzare una fiera dando nuove iniziative, nuovo impulso eccetera e ha fatto sì che è stata una fiera che come presenza di pubblico è stata veramente entusiasmante. Tutto è stato fatto nel segno del risparmio per fronteggiare un'altra grande incognita, il costo dell'energia. La crisi energetica sicuramente è importante e inciderà molto anche nei conti della fiera. Pensiamo soltanto che abbiamo dovuto accettare a torto collo qualsiasi prezzo sulla fornitura della materia prima, abbiamo cercato di contenere i consumi spegnendo le luci prima, abbiamo fatto tutte quelle iniziative possibili e immaginabili ma dire oggi qual è il costo dell'energia elettrica è veramente qualcosa di rimane un grande punto interrogativo. Un punto interrogativo che otterrà una risposta tra pochi giorni, il 30 settembre. Stiamo attendendo il 30 settembre, data della fatturazione, da parte dell'operatore e del fornitore di energia per capire a quanto ammonterà. Noi eravamo partiti con un budget ugualmente significativo ma se basta lo vedremo soltanto alla fine e questa rappresenta la grande incognita anche per noi. Rispetto alle ultime edizioni, questa della rinascita è stata costruita sul risparmio con un taglio di costi da 300.000 euro. La scommessa per il futuro credo sia proprio questa, abbiamo lavorato affinché tutto possa essere messo ai punti di partenza per una fiera 2023 che sarà altrettanto strepitosa, per non dire la migliore in assoluto. Grazie. 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 Grazie.